Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a estrarre il fortunato vincitore di questo MotoGP17 ragazzi, adesso vi faccio vedere la data e l'ora in maniera tale che capite bene a che ora ho estratto questo contest quindi andiamo a vedere, intanto vi ricordo ragazzi che in descrizione del video troverete tutti i link e i vari contatti del mio sponsor quindi contattatelo, il contest offerto da oggi è stato offerto dallo sponsor, dal mio sponsor ufficiale del canale quindi andiamo subito a incollare e a fare allora ragazzi qui abbiamo Filippo Pecca che l'unica pecca del suo canale è stato che non ha messo il suo canale pubblico e quindi non si vede un cazzo come sapete tutti ragazzi le regole del contest sono che il canale deve essere pubblico come in questo caso Artan Steinbari qui non ha niente, neanche lui e passiamo ad altri ragazzi, passiamo ad altri, continuiamo a fare estrazioni dei nomi fino a che non troveremo chi ha tutti quanti i requisiti a posto ragazzi allora questo qui è un canale aperto, vediamo se troviamo quello che cerchiamo quindi dovremo trovare i video piaciuti e dovremo trovare le iscrizioni pubbliche ma quanto vedo ragazzi anche lui non ha, Andre non ha nei video piaciuti pubblici e nei iscrizioni però adesso andremo a controllare ulteriormente, vediamo un attimino, magari mi sbaglio e andiamo a vedere ragazzi, andiamo in playlist e vediamo se c'è qualche playlist, o meglio se c'è la playlist dei video piaciuti ma non c'è ragazzi, quindi già comunque gli mancherebbe un requisito poi tra i canali, ok questi sono i canali correlati però non ci sono le iscrizioni pubbliche, quindi automaticamente anche lui viene scartato ragazzi passiamo a, passiamo a, vediamo, vediamo ma anche questo ragazzi, come vedete non ha nulla di pubblico e quindi possiamo andare avanti purtroppo mi dispiace per animalo selvatico ma le regole del contest le conoscevate tutti, le conoscete tutti andiamo a vedere qui c'è diciamo il canale c'è il canale però non ci sono i video, ahimè mi dispiace, animalo però, diciamo, non c'è nulla sul tuo canale c'è l'iscrizione, io ti ringrazio per essere iscritto al canale però i requisiti erano quelli quindi purtroppo devo andare avanti sempre Artan è qui ma l'abbiamo già visto quindi possiamo andare avanti vediamo Checco vediamo Checco che cosa, che cosa ci dice il suo canale vediamo un attimino anche lui ragazzi, canale chiuso quindi automaticamente possiamo anche andare avanti MaxiMilk YouTube bah, quasi quasi io vinco io ragazzi vi ricordo sempre l'orario come state vedendo il giorno in cui sto facendo l'estrazione e niente, va bene andiamo avanti, io non posso vincerlo Luca Moscatelli ragazzi Luca Moscatelli vediamo Luca Moscatelli che cosa ha diciamo se ha tutto quanto in regola vediamo se ha tutto quanto in regola allora ragazzi io già qui non vedo le iscrizioni non c'è nessuna barra che mi permette di vedere le iscrizioni però magari vediamo il video piaciuto se c'è e beh andiamo avanti insomma se, a parte che ecco sto controllando giusto per correttezza anche perché mi piace essere una persona corretta però già che comunque non ha l'iscrizione purtroppo aveva il video piaciuto perché c'è il mi piace però non ha l'iscrizione pubblica quindi io non posso sapere se è iscritto o meno al canale quindi mi dispiace anche per Luca ti ringrazio del like però purtroppo non hai avuto tutti quanti i requisiti quindi passiamo avanti ragazzi i requisiti erano facilissimi avere la lista dei video piaciuti pubblica i canali dove siete iscritti pubblici e lasciare un like solo questo era ragazzi purtroppo qualcuno ha un requisito qualcuno ne ha un altro qualcuno non li ha proprio e quindi purtroppo io sono costretto ad andare avanti e scartare tutti quelli che mancano di un requisito o dell'altro requisito quindi ragazzi continuiamo ad andare avanti e vediamo anche questo canale che diciamo purtroppo per lui non ha i requisiti ragazzi non mi tirate colpi però purtroppo io quello che vedo su youtube è questo quindi mi dispiace poi non so se voi lo fate da telefono ragazzi magari vi lascia il like non so io non so che dirvi magari voi da telefono visualizzate una cosa diversa però io purtroppo qui su youtube ragazzi con il mio browser come state vedendo alcune cose non le visualizzo quindi mi dice automaticamente youtube che il canale o è chiuso o che comunque non ci sono liste condivise io purtroppo non posso fare altrimenti anche perché non sarebbe corretto per tutti quanti gli altri iscritti ragazzi allora qui abbiamo marius sembra che abbiamo trovato il vincitore ragazzi detto questo il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video